Domenica 8 ottobre si è tenuto il 26esimo raduno dei militellesi in Lombardia e nel Nord Italia, ovvero di cittadini di prima generazione o discendenti di originari del comune di Militello Rosmarino in provincia di Messina, sparsi nel Nord Italia. Questo evento è stato organizzato dall'associazione Amici di Militello Rosmarino, Filippo Piscitello e Biagio Locastro di Grumello del Monte in provincia di Bergamo, in collaborazione con le associazioni della Federazione delle associazioni siciliane in Lombardia, la FASI, con il patrocino del Consiglio regionale della Lombardia. Il raduno è iniziato con un momento di confronto tra le associazioni siciliane presenti in Lombardia aderenti alla FASI, un momento di discussione importante al fine di rafforzare i legami tra le diverse associazioni e promuoverne la collaborazione. Durante il raduno si è festeggiato anche il quindicesimo anniversario del gemellaggio tra i comuni di Brumello del Monte e Militello Rosmarino, che ha unito non solo le comunità amministrative ma anche quelle religiose. Il raduno ha offerto l'opportunità di condividere tradizioni e culture enogastronomiche tra la terra d'origine, Valdemone, e quella di adozione, Val Calepio, attraverso la degustazione di cibi tipici e vini locali, come i salumi di suino nero e di tipici formaggi nebroidei, o il vino e le pietanze tipiche della Val Calepio e Lombarde. Non sono mancati momenti di commozione, come quando il presidente dell'associazione ospitante, il dottor Stefano Piscitello, e il coordinatore della FASI, Michele Fiorenza, anche con video, hanno ricordato le 25 edizioni precedenti del raduno, i presidenti, gli amici ed i soci scomparsi. Questo raduno annuale rappresenta un'occasione unica per i militallesi nel nord Italia di rafforzare i legami e condividere la loro cultura e storia, celebrando il patrimonio comune.